siamo qui con andrea cavaletto ormai riconosciuto come il vero e proprio maestro dell'horror canavesano ma non solo a livello nazionale ormai ha lavorato ha lavorato con tantissime persone di grido nome di primo piano con lì siamo qui a fare una chiacchierata per farci raccontare un pochettino della sua storia delle novità di quello che ha fatto e di quello che farà nel prossimo futuro sia a livello naturalmente mondo del cinema ma non solo perché lui oltre che sceneggiatore anche scrittore sceneggiatori di fumetti quindi con te andrea buongiorno tra l'altro ciao ciao a tutti vorremmo appunto chiacchiere un po sapere di quella che è stata la tua storia il tuo avvicinarsi al mondo prima del fumetto e poi al mondo del dell'horror del thriller e del giallo sì allora cercherò di essere il più possibile riassuntivo perché ormai sono più di vent'anni che faccio questo mestiere e di roba da raccontare tenetano immagini ce n'è parecchia ho esordito allora ho studiato all'istituto europeo di design a torino come grafico pubblicitario come indirizzo grafico pubblicitario però con la specializzazione anche in illustrazione nel frattempo ho iniziato a muovere i miei primi passi nell'editoria nel campo dell'editoria mi sono pubblicato una si chiamavano fanzine era un fumetto antologico realizzato con i miei compagni della scuola dell'istituto europeo e si chiamava ground ho avuto delle collaborazioni già lì molto influenti perché ho rotto le scatole fondamentalmente eravamo gli esordi di internet e quindi ho rotto le scatole a gente del calibro di lansdale o di warren ellis scrivendogli proprio nella mail e ho ottenuto la loro risposta e la loro introduzione alla mia rivista questo mi ha aperto le porte per altre collaborazioni e dopo aver lavorato con un po di case di fumetti indipendenti sono finito alla sergio bonelli editore stiamo parlando di una delle case editrici più importanti non solo a livello nazionale ma ormai a livello internazionale perché disegno per fare un nome è ormai un fumetto che ha valicato da tempo i quadri confini è diventato un must a livello infatti lavoro studiando ormai più di dieci anni mi sembra 12 e ho fatto altre capatine su tex zagor dampier che deve ancora uscire martin mister la storia del fumetto italiano veramente la storia del fumetto italiano in parallelo ho sviluppato anche il mio interesse per il cinema dedicandomi a sceneggiatura di film horror indipendenti anche qui siamo arrivati credo 15 16 no di più forse 18 20 collaborazioni anche in questo caso non solo collaborazioni a livello nazionale ma internazionale anzi tu hai iniziato forse a farti conoscere più a livello fuori dei padri confini sì forse di più all'estero perché in italia si fatica si faticava si fatica a farsi conoscere entrare nel giro e niente ho iniziato con patricio valladares in sud america e poi da lì siamo andati avanti che tra l'altro uno dei film che avete realizzato con patricio che si chiama in the woods prima prima dirty love che era un antologico molto indipendente molto easy fatto a segmenti proprio perché non avevamo i soldi e quindi di segmento in segmento si andava avanti fino a che non si è fatto il film e poi questo ci ha aperto le porte a hidden in the woods che è uno dei film di maggior successo se vogliamo nel campo sempre dell'horror tra l'altro l'horror estremo e ha vinto un sacchissimo di premi remake in america addirittura gli americani hanno voluto ho voluto farne una versione loro un po più edulcorata sì rispetto all'ora un po più tranquilla però con dei bei nomi for site michael bian electra bellano quindi dei bei nomi appunto 12 dicevi prima la difficoltà di riuscire a lavorare in italia nonostante poi in realtà italia è storica è la patria di cinema giallo i grandissimi come come bava come come argento hanno aperto poi anche al mondo veramente di questo genere bava è riconosciuto come colui che hai dato poi la a una serie di di generi horror ma sai tu citi grandi ti dico ci sono un sacco di autori nuovi italiani misconosciuti molto in gamba tanto in gamba che però faticano perché purtroppo abbiamo questo problema della distribuzione cioè in italia a un certo punto si è deciso che il film di genere non funziona e quindi si fatica a farlo distribuire perché se il distributore il primo a non crederci non arriva il prodotto al pubblico e quindi il pubblico si disinnamora del prodotto stesso e quindi siamo sempre qui a parlare dei grandi cioè da argento bava eccetera eccetera ma io ti assicuro che c'è un sacco di gente che sono quelli con cui comunque collaboro adesso facciamo un nome su tutti domiziano cristofaro che con cui collaboro da tempo è conosciuto anche lui più all'estero che non in italia fa dei film con pochissimi soldi perché un po perché c'è la testa così è un po perché lui vuole sentirsi libero e per sentirsi libero di fare le sue cose non può essere legato alle produzioni che poi ci mettono troppo il naso però il problema dell'italia fondamentalmente quello che prima di arrivare a fare un film deve accedere troppi compromessi cosa che una volta era molto più easy ti chiedo tu che parti vivi sei originario di salassa quindi parti dalla provincia torinese arrivare a su certi palcoscenici perché tu sei stato anche a cannes sei ormai ospite fisso a luca comics che uno dei più importanti festival riguardando appunto il mondo del fumetto ma non solo ecco quante difficoltà o quanto è stato più difficile secondo te se è stato più difficile arrivare a poi al palcoscenico nazionale internazionale guarda non ti so dire nel senso che è stato tutto un step by step cioè io non mi sono prefissato delle cose le ho prese così come venivano io volevo raccontare storie fondamentalmente voglio raccontare storie racconto storie che per me per me stesso per sviscerarle questi argomenti poi se arrivano al pubblico sono contento e se poi hanno successo sono ancora più contento quindi non è che mi sono detto ah voglio arrivare a luca comics voglio arrivare a cannes voglio arrivare non erano degli obiettivi quelli per me l'obiettivo infine era quello di raccontare delle storie che venissero pubblicate e poi fortuna diciamo una bravura hanno fatto sì che sono andato sempre più avanti sempre più avanti sempre più avanti però vi prima della difficoltà della distribuzione adesso però tu sei diciamo così approdato a una piattaforma importante come come amazon prime video tra l'altro con uno dei lavori che le recensioni sono sicuramente molto positive per chi l'ha visto è piaciuto molto il film si chiama lettera tra le tracca di dario germani regista tra l'altro con la collaborazione a livello di effettistica di uno dei più grandi sargi stivaletti che è un grande grandissimo ecco ci vuoi raccontare di lettera h che tra l'altro è un horror giallo thriller un thriller soprannaturale se vogliamo quindi non non è un horror estremo come hidden in the woods infatti molto lontano da quello che è un po quello che ti ha fatto diciamo così genero comunque che ti ha fatto conoscere che se vogliamo anche hidden in the woods è un horror a sé particolare perché io direi che più pulp che horror c'è un horror se vogliamo un po sullo stile di non aprite quella porta quindi non ci sono mostri sì 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 i mostri siamo noi ecco no per dirla alla sclavi c'è stato le tracca si parla anche i mostri ma nel senso del il mosto di firenze si può dire lettera h il titolo il titolo stesso è ispirato proprio purtroppo alle triste geste del del mosto di firenze i proiettili con la lettera h appunto incisa nel nel bossolo e niente è soprannaturale perché non è una storia che racconta del mosto di firenze in sé cioè il mosto di firenze è la parte diciamo appunto soprannaturale del film è una presenza è una presenza una presenza è tratto da un fumetto un fumetto breve che ho scritto per bugs comics mostri e disegnato da marcello mangiantini che dire è un film che ha avuto un sacco di successo preso un sacchissimo di premi anche a livello sia internazionale che nazionale soprattutto fuori dal circuito dei dei festival di genere ok che è apprezzabile certo sì perché effettivamente riuscire a travalicare questo questa montagna ormai che si è anche formata negli ultimi anni una volta era più facile anche vedere dei film di genere che potranno essere sicuramente estremo però oro giallo eccetera anche a grandissimi a grandissimi festival che non fossero diciamo così unicamente legati al mondo oggi effettivamente è più complicato esatto e quindi onora tutti alla troupe agli attori gli attori protagonisti sono stati fantastici li cito marco ceti giulia todaro o todaro mi sbaglio sempre todaro credo giulia todaro eccezionali cioè hanno girato all'interno di questa 126 perché diciamo che un film molto crostofobico e tutto ambientato quasi tutto ambientato all in un bosco di notte e dentro una 126 non vi sto a svelare il perché ma chi conosce la storia del mostro di trenza arriva è stata dura cioè è stata dura anche perché hanno girato mentre io ero a lucca comics per dirti quindi il periodo era di era fino ottobre inizio novembre quindi io li chiamavo da lucca mi ricordo per sapere come andavano le riprese e loro giravano di notte cioè tutto è girato di notte in un bosco il presente è girato di notte in un bosco dentro una 126 che ovviamente non aveva neanche riscaldamento perché era spento il motore più di più del tempo cioè una roba veramente estremo non il genere ma è stato estremo realizzato no estremo anche il film comunque si certo tocca determinate corde no si parla di femminicidi eccetera non abbiamo voluto dare proprio il punto di vista della vittima credo che sia quella la cosa che è piaciuta soprattutto del film cioè si dà mentre negli horror la vittima è di solito carne da macello parliamoci chiaro io faccio horror te lo posso dire qui invece c'è un punto di vista proprio della vittima e anche il carnefice diventa vittima a un certo punto per cui si instala un certo rapporto vittima carnefice che sono quelle dinamiche effettivamente che si vedono tante volte troppe volte purtroppo nella cronaca nera di questi femminicidi e quindi era un argomento che avrei voluto che mi piaceva indagare e toccare e sono stati veramente veramente in gamma perché non è facile fare quel ruolo sia per giulia che ne ha dovuto sopportare di tutti i colori veramente sia per marco ceti che ha dovuto immedesimarsi comunque certo ha dovuto fare polle non voglio dire troppo perché bisogna spoiler e guardatelo cioè io ve lo dico è una piccola produzione indipendente che di nuovo è riuscita ad arrivare dove non credevamo sarebbe potuto arrivare cioè siamo arrivati su prime a un costo non è però è un costo minimo siamo riusciti ad abbassare il prezzo il più possibile mi sembra che sia 2 euro e 99 2 euro 90 con 3 euro due caffè e dico supportiamo il cinema indipendente per il discorso che ho fatto prima perché se no continueremo cioè poi ci lamentiamo io stesso sono il primo ma poi sento anche la gente che si lamenta vediamo sempre le solite cose guardiamo sempre le solite cose confezze pre confezze sembrano quasi fatte tutto un pochettino uguali quella più o meno bella dell'altra però alla fine sempre tutte lì no c'è se si cerca ci sono delle altre cose in giro però bisogna andare a cercare e bisogna promuoverle se se meritano ecco se se sono se sono fatte con un certo criterio certo con una certa qualità è una certa anche una storia dietro non sta a me dirlo perché però i premi vinti parlano in un certo senso ci danno ragione ripeto premi premi internazionali nazionali internazionali e nemmeno più dei festival di genere che è una gran bella cosa ecco tu appunto dicevi prima sei sempre alla ricerca di qualcosa di diverso di nuove di nuove esperienze e ti sei lanciato anche una nuova esperienza perché sei diventato anche scrittore nel senso con io sono il male io sono il male addirittura un lavoro a quattro mani se vuoi raccontare di questa esperienza assolutamente perché è molto anche la storia anche in questo caso non è diciamo così non c'è scontato anzi si va oltre quello che possono essere il classico genere thriller stiamo nel genere thriller a me il genere piace non sono uno di quelli che fanno gli autori fighi e quasi hanno paura di dire che fanno una cosa di genere no magari c'è quell'autore che fa l'horror e dice no ma io non faccio l'horror io faccio un drammatico psicologico soprannaturale oppure non lo so cioè io no io dico ben ben contento di fare horror di fare thriller di indagare tutto quello che sono tutti quelli che sono gli anfratti più oscuri della mente umana le mie paure le mie ossessioni che quasi come in seduta terapeutica io metto su carta ho voluto provare a scrivere sotto sotto consiglio pressante di pasquale ruio collega stimato e amico che mi coinvolge sempre in varie cose non ultima il festival d'ora nera che abbiamo fatto a torino e che è stato un mega successo e verrà ripreso anche il prossimo anno festival del noir l'inter natura noir e io sono il male è in quel genere cade in quel genere non siamo più sull'horror ma siamo più sul thriller siamo sul thriller però è un thriller dove non c'è il classico assassino cioè il killer è la malattia come mi piace dire come tagline volevo indagare la malattia in questo libro e la paura della malattia quindi c'è la malattia che incombe su tutti i personaggi che può essere malattia fisica malattia psicologica e anche la malattia e anche i rapporti malati ci sono cioè gli amori malati come si dice no gli amori di coppia sbagliati e l'ho scritta con lisa zanardo che è che una scrittrice lei si di romanzi e di saggi e in più lei soffre di sclerosi multipla e ha portato quindi diciamo così una parte della propria vita si l'ha portata nel libro infatti nel libro si parla anche di sclerosi multipla quello è venuto dopo cioè chiacchierando tra l'altro io non la conoscevo ci siamo conosciuti diciamo banalmente su facebook lei ha iniziato a seguirmi perché seguiva le cose che scrivo mi ha fatto leggere qualcosa di suo in quel periodo avevo già in mente di scrivere questo romanzo avevo l'argomento in testa avrei voluto affiancarmi a qualcuno perché una per me era una cosa nuova scrivere romanzi e quindi avrei voluto scrivere con qualcuno che già ne sapesse più di me per imparare semplicemente glielo proposto lei accettato e della sua malattia è finita come fulcro della storia stessa io volevo parlare ripeto della malattia in generale poteva essere qualsiasi cosa non mi interessava la malattia vera e propria una malattia in specifico però ci doveva essere e lei soffriva di quello quindi detto abbiamo detto insieme abbiamo deciso insieme per il fatto che è meglio raccontare le cose che si conoscono si conoscono meglio ha detto vabbè assolutamente inseriamo quello che la tua esperienza infatti è questo romanzo è molto particolare perché è fiction ma assicuro ti assicuro che tantissime delle scene che vengono raccontate sono scene vissute proprio da lisa zanardo quindi stella niani la protagonista del romanzo è una specie di alter ego di lisa che si comporta in modo diverso da come si comporta lei perché ci serviva un personaggio di un certo tipo che volvesse in un certo modo ma le esperienze nella protagonista all'interno del romanzo in parte sono diciamo autobiografiche tra l'altro la parte scioccante finale che non so anche qua raccontare no però è la parte finale è quella più dura mi sembra chi mi conosce dice acqua c'è la zampata di cavalletto sì e no nel senso che comunque le cose che succedono sono una specie di trasposizione come dire fisica dei mali di cui soffre lisa quindi abbiamo fatto una specie di trasformazione della della del 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 mare delle delle esperienze che ha avuto lisa in certi momenti della sua vita con questa malattia rendendole killer rendendole umane difficile da spiegare va letto anche questo quindi ragazzi io sono il male pubblicità gm libri posso si può mai le libri lo trovate in tutte le librerie stiamo stiamo andando verso la terza di stampa infatti volevo dirtelo nel giro di un anno è uscito a marzo un ottimo grande successo si è stato si apprezzato molto piccolo caso editoriale mi è stato detto mi hanno mi è stato anche detto che è ancora più particolare perché comunque la casa editrice non è mondadori non è rizzoli non è gm cioè non è non è giunti non è insomma le grandi case editrici che mi hanno detto che questo libro se questo libro fosse stato pubblicato da un editore diciamo di quelli big sarebbe stato veramente al top perché con la pubblicità giusta dietro eccetera però se ti dico già così è una cosa incredibile se uno se uno va a guardare io ogni tanto devo guardare la classifica di amazon e lì si vede cioè siamo comunque da mesi 1500 2000 come posto nella classifica come dicevo da 2000 no no cioè cioè in letteratura non in thriller psicologico no no in letteratura cioè romanzi romanzi generali siamo in quella classifica lì una classifica di centinaia di migliaia di romanzi quindi facevo una chiacchierata di recente con un autore di un libro completamente diverso raccontava diceva in italia si pubblicano all'anno circa 70 mila e alla fine dei conti il 10 per cento di quei libri vengono vendono almeno una copia quindi il 90 per cento di quei libri rischiano di non essere comunque a massimo è carne da macello esatto esatto quindi essere in quella classifica di essere lì cioè comunque siamo sia ce la giochiamo non è una gara però io dico dico cioè un motivo d'orgoglio giocarcela con autori di livello cioè non gente che gente che scrive thriller da 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 anni e che si è fatto si è fatto le ossa si è fatto il nome certo quindi quindi boh soddisfazione soddisfazione uno stimolo a continuare il tempo il tempo è il grosso problema l'idea ci sono io e lisa ne abbiamo già parlato ne stiamo già parlando però fondamentalmente il tempo però a proposito di tempo il 2021 si è chiuso da qualche giorno tu hai lavorato tantissimo perché questi abbiamo parlato risultati questi sono i risultati sono i risultati però proiettiamoci dilandog abbiamo abbiamo saltato il nostro allora se abbiamo accennato prima per quest'anno è stato anche un anno che mi ha visto parecchio protagonista anche su dylan sono sono uscito sull'almanacco sono uscito sul lol boy e sono uscito sulla serie regolare pochi mesi fa con il momento blu che è una storia che ha fatto parecchio discutere perché una storia un po particolare diverso dalle solite storie di dilandog molto realistica molto cruda dove ho raccontato volevo raccontare le stragi a scuola che è un altro argomento che mi sta particolarmente a cuore e mi sconvolge e volevo cercare di entrare un attimino nella testa sia delle vittime di nuovo che dei carnefici e ho raccontato questa storia da un punto di vista non così soprannaturale il soprannaturale se vogliamo c'è ma è molto blando ed è molto metaforico ecco anche con dilandog sei entrato in punta di piedi piano piano si è riuscito a si non credevo di restarci a creati il tuo spazio e anche avere la possibilità dicendo prima appunto hai portato una storia che è un po diversa da quello che è il classico dylan anche lì riuscire a regalare qualcosa di tuo di un ambiente che diciamo così non chiuso però però ci sono dei paletti il personaggio non è mio deve aspettarlo eccetera si sono contento perché ho fatto una mia visione di dylan e soprattutto si è visto nelle ultime nelle ultime storie che sono uscite alla storia muta il silenzio del lupo credo che sia l'unica al momento storia muta lunga di dilandog fatta poi appunto il momento blu che è particolare per questo per questo motivo insomma una bella soddisfazione dato che prima di tutto tu sei un fan ma io sono ancora un fan e quindi il bello è quello che sono ancora un fan cioè io sono il fan delle cose che scrivo se non lo fossi non credo che le scriverei non mi verrebbe proprio la scintilla ho rifiutato dei grossi lavori mi sono potuto permettere anche perché appunto lavorando come creativo diciamo con le spalle coperte e posso permettermi di fare quello che voglio però ho rifiutato dei lavori che uno dice ma sei pazzo però mi era stato chiesto per dire un film commedia la sceneggiatura di un film commedia non dico con chi però un bel nome in italia se si dice film commedia ce ne sono che va però non era proprio delle mie corde e quindi sinceramente conoscendosi da un po di anni e sapendo quello che hai fatto non ti vedo molto effettivamente no cioè io sono tanto umorista nella vita ma nella scrittura non ci riesco e quindi mi sarebbe pesato l'avrei vista come una cosa forzata per cui 2022 allora aperto da pochi giorni che cosa cosa dobbiamo aspettare tanto come sempre tanto e allora giusto in questi periodi in questo periodo ti dico che sto lavorando su tre progetti cinematografici diversi di uno già scritto la sceneggiatura di due siamo in fase di non posso ancora dire non c'è tanto di uno posso già dire il titolo perché c'è già su imdb l'internet movie database e si intitola provvisoriamente mariana web ed è tratto da un mio racconto breve che già uscito che si intitola il nuovo alle porte è particolare come tutte le cose che faccio non dico molto di più è la storia di un uomo di campagna che ha una doppia vita cioè di giorno è contadino e di notte invece ha tutta un'altra personalità su internet ha scoperto il mondo esterno diciamo tramite internet è una persona chiusa che vive quasi in isolamento questa storia l'ho scritta prima è stata riflessione sui nostri tempi sul nostro modo di vivere ed è anche di nuovo una critica società in cui viviamo quindi c'è lui che scopre il mondo esterno tramite questa finestra che è internet da lì le cose si evolveranno in un incubo molto cronembergiano se vogliamo mi permetti di citare un grande maestro su cui ho fatto anche una tesi di laurea all'istituto allo ied proprio e quindi mi permetto di citarlo c'è anche un po di cronemberg nelle cose che faccio mi perdonerà tanto è stato anche protagonista di recente in Italia si si a matera matera sarei voluto andare cavolo sarei veramente voluto andare non ce l'ho fatta però mi sarebbe piaciuto ci sarà modo avrei potuto regalargli la tesi effettivamente sarebbe stato un bel regalo però oltre questi tre quindi nel mondo del cinema invece per il resto a breve a breve è già stato annunciato spero comunque nella prima metà del 2022 per edizioni inchiostro uscirà la mia graphic novel biografica su carcobain disegnata da gianni francesco gianni in modo strepitoso ne sono state già fatte tante di biografie di cobain ma ti dico la mia un po particolare particolare l'avrò detto 40 volte però effettivamente tutto ciò che hai fatto è molto visto ho letto seguito effettivamente mi conosci se se non ho un punto di vista da offrire io non faccio piuttosto e quindi mi spiace ripetermi ma sì cioè sarà una cosa diversa da quella che è stata vista finora sia sulle biografie fumetti che sulle biografie diciamo letterarie sul personaggio io stimo tantissimo la sua musica però ho voluto soprattutto indagare il ragazzo lato umano direi l'uomo ma è morto ragazzo e quindi credo i 27 infatti uscirà per la serie del club dei 27 di edizioni inchiostro e niente credo che farà scalpore abbastanza per come l'abbiamo raccontato dobbiamo aspettarci quindi nove belle sorprese oltre che naturalmente la qualità il grande impegno che andrà cavaletto metti in tutto ciò poi c'è c'è anche sempre per edizione inchiostro un'altra grafica 9 dovrebbe uscire ancora prima questa credo febbraio se ci riusciamo within che è un horror molto classico questo quasi un teen horror uno movie sembra un teen horror movie è una graphic novel disegnata da elena chiappini una new entry se vogliamo nel fumetto disegna in stile iper realistico molto raffinata e la storia l'idea è sua e glielo sviluppata io è un dietro la patina di un teen horror movie anche qui si nasconde un'argomentazione molto particolare ci sono tanti momenti autobiografici ed è un una riflessione sul suicidio quindi pesante argomenti leggeri comunque ma il bello di questa graphic novel è che può essere letta veramente come un nightmare moderno però se si guarda attentamente nel non detto è lì che c'è la parte interessante non l'ho voluto esplicitare esplicitare troppo non volevo fare un trattato però diciamo che la ragazza è nella chiappina tirato tanto fuori tanto della sua personalità io ho fatto un po da psicologo se vogliamo della mutua però loro un po psico analizzata e attraverso la sua storia l'ho plasmata ecco ho plasmato questa 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 storia se volete la racconto anche brevemente è la storia di questa pittrice giovane che lavora all'accademia e che ha la passione per i luoghi abbandonati finisce in una esplorare una chiesa abbandonata in questa chiesa abbandonata trova una cornice antica dimenticata lasciata lì e decide di portarsela a casa questa cornice crea in lei una specie di ossessione per cui si sente sente il desiderio di utilizzarla cioè di metterci dentro i quadri che che disegna tra l'altro in concomitanza con la sua prima mostra cioè lei carica questa cornice di significato come se le avesse portato fortuna e invece questa cornice sembrerebbe caricarsi addosso tutt'altro una maledizione quindi e da lì within within che vuol dire dentro dentro cosa c'è dentro la cornice lo scopriremo leggendo andrea siamo quasi in chiusura e devo dirti che anche quello che stai raccontando adesso significa spiega anche l'evoluzione dell'andrea cavaletto che è partito con una grande passione e oggi anche grazie a quelli che possono essere stati i tuoi maestri le persone comunque che hai incontrato adesso sei arrivato raccontandoci questa cosa di within dove tu stai diventando non dico maestro ma stai iniziando anche a tirare fuori e dare una mano a quelli che possono essere ma sì diciamo così i protagonisti poi mi piace lavorare con grandi nomi perché ovviamente è una goduria è una goduria però allo stesso tempo mi piace tantissimo puntare sui cavalli di razza ancora da che devono ancora far vedere quello che valgono quindi sì per me è un enorme stimolo e poi è sempre cercare di far qualcosa di diverso tra l'altro un'altra novità e poi chiudiamo fin orsetto guerriero che è una specie di winnie the pool dark è la mia è la mia versione di winnie the pool dark scritta insieme a luca pugioni che proprio parlando di nuove leve un allievo che ho incontrato alla scuola all'istituto alla scuola olden di torino in cui insegno quando quando ho finito la scuola aveva questo soggetto che abbiamo elaborato tra l'altro in classe di questo orsetto e e io ho detto cavolo cioè winnie the pool versione dark secondo me è geniale e gli ho detto che andrebbe di svilupparlo in una graphic novel lui mi ha risposto di sì e quindi uscirà per shock dom edizioni curato da dalla man font di manfredi toraldo questo questa grafic 9 di 120 pagine un winnie the pool dark un fantasy un po pal per un po un po diciamo così anche per un pubblico diciamo non proprio non estremo quindi quasi per quasi per tutti quasi per tutti anche se ci sarà la tampatina mia disegnato da davide pisciottano bravissimo molto 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 figo e invece cannavesani posso già dire che vi aspetto a marzo da bomber comics a rivarolo cannavese provi permettendo sperando che la quarta data sia quarta quinta non dicono che più mai questa ondata sia sia un ricordo e dove presenteremo il l'antologico blog sangue dicevo blog sangue che è un antologico di racconti quindi di nuova letteratura sui vampiri quattro storie sui vampiri come spero non l'abbiate non l'avete mai viste un racconto mio un racconto di christian sartirana un racconto di pietro gandolfi in un racconto dell'esordiente sebastiano cucito insomma siamo dei bei nomi che chi segue l'horror italiano la narrativa oro l'italiana questi nomi conoscere denominare e dovremmo esserci tutti da bomber comics quindi ragazzi bel momento non non è da perdere non è da perdere copertina di claudio montalbano dipinta stupenda e illustrazioni interne di barbara steggiano e starà presente anche lei per fare disegni e sketch a chi sarà lì per comprare il volume quindi mi aspetto di vedere anche te assolutamente un appassionato mio ma soprattutto del genere è imperdibile per cui non so ancora la data certo ma a marzo stiamo chiudendo adesso il libro e a marzo usciremo con ci vediamo sicuramente ci si vede diciamo che come chiusa finale questo 2022 quindi ti vedrà di nuovo protagonista avevo detto come 2021 basta mai perché veramente ma mi sembra che 2022 stia ripetendo sì però va bene cioè positivissimo questo punto di vista grazie di averci dedicato un po' di tempo e soprattutto speriamo di ritrovarci prossimamente a parlare di nuovi progetti sicuramente ci sarà un modo e tempo andrà un grande in bocca al lupo per tutto direi che porti il nome del canavese di salassa e naturalmente nome di andrà cavalletto nel mondo questo ripeto merito tuo perché comunque in questi anni hai lavorato veramente molto bene grazie di essere stato qua grazie grazie a voi ci vediamo nel cinema in libreria in fumetteria in edicola basta ciao a tutti